Salve a tutti, dal laboratorio del streaming club ritorniamo con l'argomento della politica dei bottoli, lavaggio ad aghi, graniglia, ultrasuoni. Questi sono i bottoli che raccogliamo sul campo, quindi tutta roba sporchissima che è fattivo. Perché ho preferito il lavaggio ad aghi? Sono circa 40 minuti. Circa 40 minuti ci stiamo lavando, vediamo il risultato. Sciacquiamo, vediamo quello che è uscito fuori. Ogni lavaggio mio sono circa non meno di 250-300 posti. 9,21. 9,21, 45, indiferente. Guarda qua. Guarda qua. Perfetti. Buon po' di circa 50 minuti. Perfetti. Noi. 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 l'unico prodotto che abbiamo è solo questo bagno gel tantissimi ma l'unico prodotto che funziona è questo qui 10 minuti di asciugatura Grazie 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 Grazie